Grazie, allora il prossimo è un brano bellissimo, lui è Skip James ed è anche un brano particolarmente attuale nonostante questi brani che state ascoltando hanno a momenti quasi 100 anni e parla di quanto sono duri i tempi d'oggi, quindi più o meno in qualunque momento si canti un pezzo del genere e va sempre bene. Lui è Skip James, il brano è Hard Time Killing Floor. Non muovete. Non muovete, non muovete. Non muovete, non muovete, non muovete. Times are harder than ever, than before I know that people are drifting from the bottom But I can't find the never, I don't care where to go Even if I ever can't get up all of the zone, I'll kill them all Lord, I don't let them get down this long more Lain, Lain, Lain Mmm Mmm Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie.